Ciao da Medeo, non so voi ma io sono sempre alla ricerca di un mouse che sappia accompagnarmi nelle lunghe sessioni di gioco e ahimè ne ho già distrutti parecchi. Di solito mi piacciono leggeri e precisi per non appesantire il già difficile lavoro del polso ed è qui che sono arrivato a scoprire il mouse Logitech Pro Gaming G Wireless, davvero un mouse eccellente. Lo so, non volete fidarvi della mia parola sulla fiducia quindi andiamo a scoprire perché sono così convinto che Logitech abbia creato un ottimo mouse. Innanzitutto la sua dimensione e la sua forma bella e comoda adatta praticamente a tutte le impugnature delle mani ad eccezione di quelle un po' troppo piccole. Questo mouse come vi ho detto prima è ultra leggero, infatti il suo peso è di appena 80 grammi. Logitech ha collaborato con atleti di e-sport professionisti proprio per arrivare a creare il mouse perfetto. L'intera periferica è caratterizzata da una livrea in plastica liscia e nera e non ci sono fronzoli o led strani, solo un singolo logo Logitech G illuminato RGB. Ha un design ambidestro e ha una latenza di click molto bassa. I pulsanti laterali sono il sinistro e il destro, sono rimovibili e consentono ai professionisti di decidere quanti pulsanti laterali utilizzare da 0 a 4. I pulsanti sono tenuti in posizione da magneti ed è facile estrarli. In termini di funzionalità mi ha colpito il suo doppio uso cablato wireless, infatti è possibile collegare il cavo micro usb da 1,8 metri alla parte anteriore del mouse o all'adattatore in dotazione al quale si può collegare anche il dongle wireless usb. È un ottimo sistema che rende davvero facile passare istantaneamente tra le due modalità. Concludo con un super punto di forza, ovvero il suo sensore Hero, proprietario di Logitech che è in grado di tracciare a velocità superiori a 400 IPS. Ad ogni modo il nostro mouse offre prestazioni da top di gamma, con qualsiasi sensibilità, senza smoothing, accelerazione o filtraggio, da 100 a 25.600 dpi. Il sensore Hero è anche molto più efficiente dei precedenti e infatti consuma 10 volte meno di energia elettrica. Il che è un altro gran vantaggio, considerando che il G Pro wireless ha una durata della batteria stimata in 48 ore con illuminazione e 60 ore senza illuminazione. Infine supporta Windows dal 7 in avanti e macOS 10.11 o versioni successive. Avrete capito perché, da giocatore, è uno dei mouse wireless più quotati, nonché uno dei migliori sulla piazza al momento. Potete trovarlo su bpmpower.com cliccando sul link che vi riporto qui in basso in descrizione. Supportate il nostro lavoro, iscrivetevi al nostro canale YouTube, lasciateci un mi piace e perché no? Ditemi che cosa ne pensate nei commenti. Se lo possedete fatemi sapere come vi trovate. Ciao e alla prossima!